Per gli amici di Daily Basket con Tommaso Fantoni. Tommaso, domenica si comincia, si va a Treviglio. Quali sono le motivazioni dopo una buona Supercoppa per la gara fuori casa? Siamo vogliosi di iniziare questo campionato. Finalmente arriva il lavoro vero. Non che la Supercoppa non lo fosse, ma adesso abbiamo la squadra completa. Abbiamo giunto il premio anche titolare, che per noi è fondamentale. Sono un ottimo giocatore. Abbiamo tutta la voglia e l'agonismo per andare a Treviglio a giocarci. Le motivazioni personali invece dopo un anno un po' così così? Sicuramente voglio giocare, voglio risentire il pallone, voglio correre sul campo. Quello sicuramente. L'anno scorso è andato com'è andato. Vedo il bicchiere mezzo pieno e mi sono riposato. Sono più fresco di un anno. Sono contento di essere qui. Spero di dare sempre il massimo. Grazie. Ciao.